E ho detto, ma è possibile che le 20 anni per il desidero a fare i stupidi? La Z la penserà giustamente che sei i stupidi, ed essi non fai i stupidi, ma fermi, ma non sei. Nel senso che se ne andrà l'altra, di scrivere, no, non stai alla via, perché adesso, fermagli, fermagli, fermali, fermali, nella canzone d'amore, dedicata a tutti i peccati del bene, no, almeno questa, fermali, che? Ve la dedico a ella, signora, dai, ti vive l'amante, ma i venti, ma dopo la polnace, anche perché scopinse la replica dei 100 vetrine. Insomma, nella canzone dedicata all'uomo e alla donna, e soprattutto a quella forza meravigliosa che è l'amore, quella forza misteriosa che fa sì che l'uomo e la donna si aprae, e si respinge oramai da chilengli e millenni. Ma noi finalmente siamo riusciti a cogliere l'essenza del messaggio, e abbiamo capito qual è quella forza misteriosa che eleva l'uomo e la donna. Trenta secondi di canzone seria, e dopo tornare a fare i stupidi con noi. Seria, dedicata a tutti quei che siano il bene, tipo, tipo lui e lei, tipo loro due, fidanzatini giovani, tipo lui, lei e quell'altro. Non so come si è organizzato in quella tavolata, ma comunque a uno del prete, ho capito? Allora, dedicata a tutti quei che siano il bene, l'uomo, donna, animale che sia. Vai. Mi commuo sempre. Dimmi cos'è, 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 e ci fa sentire vivi anche se non ci conosciamo. Dimmi cos'è, cos'è, e ci fa sentire vivi anche se poi ci ho fatto il mio. Dimmi cos'è, 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 e ci fa perdere forte, forte, tutti in oro. Grazie a tutti! Grazie a tutti! E' un momento di serietà che volevo rendere le patezzi, grazie!